Nel giro di pochi giorni quello della sicurezza è diventato il tema più discusso nei social e nei siti specializzati. A portare alla ribalta il problema ha contribuito purtroppo anche il gravissimo incidente a causa del quale ha perso la vita un bambino di una scuola primaria di Milano. Per la verità le indagini sul caso sono ancora in corso ma sono in molti a protestare contro la scarsa sorveglianza esistente nelle scuole primarie e dell'infanzia in conseguenza del taglio degli organici dei collaboratori scolastici. Così si è espresso persino lo stesso sindaco di Milano Giuseppe Sala, concetto analogo è stato ribadito dal ministro Fioramonti. Per parte loro le organizzazioni sindacali hanno deciso di promuovere in tutte le scuole d'Italia una assemblea sindacale di un'ora proprio per discutere del problema della sicurezza nelle scuole. Il 30 ottobre scenderanno in piazza i dirigenti scolastici stanchi di essere indagati, spesso condannati per inadempienze degli enti proprietari degli edifici, come è accaduto a Sapri dove qualche settimana fa la dirigente Franca Principe è stata sospesa dal servizio per 5 mesi a seguito di una condanna in via definitiva per un incidente verificatosi nel 2011 ed è proprio l'associazione fondata da Franca Principe, Modifica 81, che insieme a diversi gruppi spontanei ha promosso la manifestazione del giorno 30, con la quale si chiedono anche modifiche sostanziali al decreto legislativo 81 del 2008 in materia di sicurezza. Insomma, ancora una volta c'è voluta una tragedia per mettere al centro dell'attenzione un problema che nelle scuole, soprattutto in quelle che accolgono gli alunni più piccoli, c'è sempre stato la scarsità di personale per garantire la sorveglianza negli spazi scolastici, soprattutto nei momenti più delicati della giornata, per esempio durante gli intervalli, durante l'uscita da scuola o nel momento di accesso allo scuolabus. C'è da augurarsi che la questione non cada nel dimenticatoio e che nel redigere la legge di bilancio si inizia ad affrontare seriamente il problema. Come potete immaginare questo tema è un altro tema molto caldo su cui si sta molto discutendo, è un tema molto seguito, quindi continuate a seguirci sia su questo canale sia nel nostro portale www.tecnicadelascuola.it perché certamente continueremo ad occuparcene, continuate non solo a leggerci ma anche a scriverci e a mandarci le vostre osservazioni, i vostri commenti, ne daremo conto. Grazie. 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 Grazie.